L'incendio sul Morrone vede un grande impegno della protezione civile regionale che tiene sia sul posto sia dalla sala operativa la situazione sotto costante controllo. 12 mezzi in totale impiegati lì, sia della protezione civile che delle associazioni di volontariato che da protocollo sono state attivate con una quarantina di uomini presenti, compreso il direttore dell'agenzia regionale Mauro Casinghini. La situazione meteo però non sembra aiutare dal punto di vista degli incendi perché l'allerta gialla della protezione civile riguarda le aree costiere non interne per rischio idrogeologico. Dal punto di vista tecnico non si prevede che col giallo siano inviati degli allert ai comuni ma sono direttamente le amministrazioni che collegandosi sul sito possono vedere la situazione informate comunque dalla protezione civile delle modalità. Attualmente sì siamo sul Morrone con tutta una serie di associazioni di volontariato che ci stanno supportando per lo spegnimento degli incendi oltre ai vigili del fuoco. Siamo in una situazione in cui sicuramente il meteo non ci sta aiutando nel senso che le temperature comunque rimangono elevate anche se in abbassamento mentre nelle zone interne non abbiamo non sono previste precipitazioni tali che possono supportarci anche nello spegnimento degli incendi. Ecco che tipo di allerta c'è in questo momento in protezione civile e come vi organizzate voi soprattutto dove magari ci sono delle situazioni di criticità? Attualmente abbiamo un rischio idrogeologico per temporali su tutta la zona costiera e nell'alto sangro come vedete nell'immagine alle mie spalle e ci si organizza nel senso che tutto il sistema di protezione civile è in una fase di attenzione e quindi monitora costantemente le precipitazioni in atto e quindi è in grado in qualsiasi momento di allertare il territorio nel caso in cui ci fossero criticità maggiori. Per quel che riguarda la situazione attuale c'è stato un altro incendio a Caramanico ma nella notte è stato presidiato e risulta immunifica e un altro nel vastese sempre ieri.